Consegnato oggi a Venezia il premio Vesce, occasione per un bilancio del digitale terrestre, tracciato anche un identikit del telespettatore Veneto. Due anni dall'avvento del digitale terrestre in Veneto, nella sede del Consiglio regionale, in occasione del premio giornalistico Emilio Vesce, si sono tracciati bilanci e prospettive. Tra i Veneti, la televisione resta il mezzo di informazione e di intrattenimento più diffuso. Contemporaneamente al numero dei canali sta cambiando quella che è l'attitudine del cittadino nei confronti delle emittenti e dei canali stessi. Il 54% dei Veneti apprezza la moltiplicazione dei canali, il 90% continua a seguire le emittenti nazionali, in particolar modo la RAI, anche se il 34% dichiara problemi di ricezione del segnale. Questo succede più nelle aree di confine, forse perché la scelta dei tralicci da cui vengono trasmessi, quindi dei siti da cui viene trasmesso il segnale, probabilmente ha qualche problema. Ci aspettavamo grandissime cose. Nella realtà abbiamo lamentazione nei territori che non riescono a vedere bene e abbiamo la constatazione che la pluralità delle fonti di comunicazione televisiva sono oggi in difficoltà. L'impegno è quello di studiare forme di rilancio per tutta l'emittenza radio-televisiva. Trovando nuove parametri di valutazione per le assegnazioni dei fondi che devono essere maggiori rispetto a quelli attuali, ma dove il premio deve derivare proprio dall'informazione di qualità. Grazie a tutti.